Quattro anni fa eravamo un po' più in là nel mese di maggio quando il Comitato Provinciale è stato eletto per una sfida molto importante perché poi quando arrivano dei giovani, dei ragazzi destano sempre preoccupazione magari per qualche storico. Invece possiamo dire che abbiamo avuto risultati bellissimi anche da questi incontri che stiamo facendo in questi giorni sul territorio dove stiamo incontrando le proloco. C'è grande soddisfazione da parte delle proloco e non nascondo che anche da parte mia perché abbiamo lavorato insieme. Io dico sempre abbiamo perché il Presidente tira il carro però c'è una squadra dietro di persone che lavorano e che si sono impegnate in questo territorio e hanno portato grandi risultati a livello di turismo. Pensiamo solo 300.000 turisti nel periodo natalizio e che economia portano al nostro territorio. Quindi vediamo sempre attivi 365 giorni l'anno i nostri borghi con tantissime, migliaia e migliaia di iniziative. E devo dire che io sono stato fortunato in questi quattro anni di presidenza provinciale perché ho avuto attorno a me delle persone validissime. Per primo vorrei citare la nostra segretaria Laura Silvestroni e il Vice Presidente Francesco Gulini ma anche tanti altri consiglieri che si sono dati da fare. Si va al rinnovo delle cariche, del direttivo quindi immaginiamo che adesso davanti ci sarà un altro periodo impegnativo. Lei si ricandida e quindi insomma quale sarà il suo impegno per il futuro? Allora abbiamo già dei progetti in campo. In questo momento stiamo presentando la squadra al territorio provinciale. Come Presidente provinciale stiamo cercando insieme a tutte le Proloco di rifare un nuovo consiglio che sia valido e sicuramente le persone che entreranno saranno valide e poi ci saranno anche le elezioni a livello regionale quindi presenteremo due candidati a livello regionale e per la prima volta presentiamo, poi dovremo vincere perché dovrà essere votato da tutte le marche e presentiamo un nostro candidato per il Consiglio nazionale delle Proloco. I progetti sono tanti, partiamo dal progetto di promozione e accoglienza turistica che abbiamo messo in cantiere con le associazioni di categoria perché il turista quando arriva qui deve essere ben informato. Da qui anche il progetto di mettere in rete tutti i punti IAD della provincia e collaborare con i quattro centri IAD della provincia perché non è possibile che Carpegna non sa cosa succede a Marotta. Dobbiamo essere in rete, dobbiamo informare e formare il personale che sta all'interno dei nostri uffici, degli uffici IAD e crediamo che questo si possa fare solo insieme e quindi anche un appello alle associazioni di categoria, alla provincia e alla regione Marche per lavorare sempre di più insieme, lavorare uniti con le Proloco del nostro territorio e soprattutto concludo con ringraziare veramente di cuore le migliaia dei volontari che si impegnano per promuovere il nostro territorio, per rendere sempre belli e attivi i nostri borghi, le nostre città, i nostri castelli.